Siamo con Enrico Mazzone, artista torinese, abbiamo visto questa bellissima opera d'arte alla 75esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, ce la racconti? Molto volentieri, non condiendo l'occasione di ringraziare il dottor Graniti e la dottoressa Di Perna per essere qua in questa occasione. La genesi dell'opera nasce proprio dal carteggio che spongo qua alla 75esima mostra del Cinema Internazionale a Salerno e rappresenta la Giudecca, ovvero il luogo in cui Lucifero troneggia negli inferi danteschi. Da questo studio sono riuscito a trarre alcune conseguenze, alcuni schizzi che nell'arco di 5 anni passati in Finlandia sono riuscito a rappresentare i 97 metri di foglio di lunghezza per 4 di altezza. Sono molto felice di poter ringraziare la società Dante Alighieri per concedermi la presenza.